Giovedì 28 dicembre si chiude l'anno con la presentazione di un bellissimo libro. Ettore Barra, l'appuntamento ad Avellino. Sì, ci vediamo il 28 dicembre al Circo della Stampa, ore 10.30, per presentare questo volum che abbiamo realizzato su Gerardo Bianco, giusto a un anno esatto dalla morte. Il libro è a cura di Paolo Saggese, Peppino Giuliano e Gianni Festa. L'appuntamento è al Circo della Stampa, alle 10.30 sarà un momento per ricordare la figura del politico Gerardo Bianco, ma ovviamente anche per fare una serie di riflessioni insieme a Gianni Festa, Giuliano e il professore Saggese. Sì, per provare a ragionare insieme anche su quella che è stata la cultura dirigenziale erpina e su quella che potrebbe tornare ad essere.